I sentimenti sono molto belli perché siamo una squadra che siamo cresciuti tutti in un anno, non ci conosciamo da un po', siamo tutti nuovi, abbiamo lavorato molto in palestra tutti i giorni e questi sono poi i risultati, ci è mancato poco per la finale ma è andato. Porta Casa ha tanta voglia di continuare, di riprovare a vincere un titolo e di continuare così, rincorrendo al mio sogno. Mi aspettavo di fare bene ma non fino a questo punto, però una volta che sono stato qua ho detto ce la possiamo fare ma ci è mancato veramente poco. Siamo passati da sensazioni di costruzione del lavoro ad avere un sogno. e di partita in partita abbiamo cercato di rimanere sereni, piedi per terra, ragionare a un set alla volta. In questo i ragazzi sono stati spettacolari. Oggi secondo me abbiamo fatto un capolavoro tattico. Non potevamo fare a pallate con piacenza perché sono uno squadrone e avevamo quei 6, 7, 8, 10 palloni a set e con quelli dovevamo costruire qualcosa di buono perché alcune situazioni non erano risolvibili. Quindi sono veramente, sono stra felice, sia dal punto di vista emotivo ma anche dal punto di vista tecnico.